Energia, spiccate motivazioni. Ivan Tisci ha cominciato il suo mandato da allenatore della Pineto con grande entusiasmo. Sarà la sua seconda esperienza in C, dopo la parentesi di Cerignola, storia della scorsa stagione. Insieme con il vice Lambertini, entrambi esonerati a sette partite dal termine della regular season. Pugliesi si incalo, ma undicesimi in classifica, ad una sola lunghezza dai play-off e con ben otto punti di vantaggio sui play-out. Ora Pineto, contratto sino a giugno con opzione di rinnovo in caso di play-off. Squadra terz'ultima con sette punti frutto di una sola vittoria contro l'Arezzo in casa 3-1 lo scorso 7 settembre e quattro pareggi. Tre le sconfitte maturate negli ultimi cinque incontri con Cudini, destituito dall'incarico lunedì scorso. In questa nuova avventura Lambertini, amico, ex compagno di squadra Pescara e fidato collaboratore, non sarà al fianco del tecnico nato a Genova, ma di fatto pescarese d'adozione. Il vice è Daniele De Vezze, ex centrocampista a scuola Roma, già a Lanciano in C per sei mesi da gennaio a giugno 2002, compagno di squadra di Tisci nel Savoia in B, stagione 99-2000 e lo scorso anno collaboratore a Cerignola. Tisci ripartirà dal 4-3-3, declinabile in 4-3-2-1. Domenica prossima alle 17.30 il battesimo sul campo della Vis Pesaro dello squalificato Roberto Stellone. In panchina il vice Andrea Gennari, amico e già compagno di squadra di Ivan Tisci a Lanciano in C, campionato 2002-2003, in bocca al lupo. Il Pescara invece resterà a guardare. Comunque vada sugli altri campi, sarà sempre in vetta alla classifica, senza giocare. Rinviata infatti a giovedì 21 novembre la gara casalinga col Milan Futuro, Zeppo di nazionali. Di conseguenza spostata di un giorno la sfida all'Adriatico Giovanni Cornacchia col Pineto. Non si giocherà più domenica 24 novembre, ma lunedì 25 novembre alle 20.30. I biancazzurri torneranno in campo venerdì prossimo 18 ottobre alle 20.30. 12 giorni dopo l'ultimo impegno di Ascoli. L'11 di Baldini affronterà in trasferta la SPAL dell'ex capitano biancazzurro Samuele Olivi, oggi secondo del tecnico degli estensi Andrea Dossena.